Tutto è bene, ciò che finisce bene. Nell'ultima gara della stagione, il gigante delle finali di Coppa del Mondo a Meribel, la nazionale femminile azzurra porta a casa una perentoria doppietta con la vittoria di Federica Brignone ed il secondo posto di Marta Bassini. Sono talmente orgogliosa di quello che ho fatto, abbiamo fatto quest'inverno e durante le gare, durante i giochi in Coppa del Mondo e chiudere così è la ciliegina sulla torta. È stata un'annata record per le nostre ragazze con 11 vittorie complessive. Per Federica Brignone i successi in carriera sono saliti a 20. La Coppa di Gigante è andata alla francese Tessa Vorlet dopo il crollo nella seconda manche di Michaela Schifrin. Nell'ultimo slalom maschile della stagione, dominio norvegese con vittoria del giovane Mekrat e Coppa di specialità al connazionale Christoffersen. Migliore italiano Tommaso Sala, settimo, senza punti, Finazzer e Razzoli.